Vuoi diventare un eroe del fitness ma non riesci ad essere continuo con gli allamenti buttando soldi in pillole magiche e gli allamenti in palestra che non ti portano a raggiungere nessun risultato Ogni volta che vedi un uomo o una donna con un fisico più tonico del tuo ti brucia lo stomaco dalla rabbia? Ti vengo a prendere io! Sigla! Fitness Heroes, la trasmissione che ti dimostra che non serve essere eroe del fitness per tornare in forma Anche se con me un eroe lo diventerai